senza bavaglio informazione libera sempre amici telespettatori eccoci con una puntata di senza bavaglio in cui vogliamo analizzare lo abbiamo già fatto altre volte ma tutte le favole le chiacchiere le contraddizioni del movimento 5 stelle un movimento che dice e si contraddice afferma e ritratta un qualcosa di davvero vergognoso hanno saputo solo attirare la buona fede della gente hanno saputo speculare sulla disperazione sugli errori sulle schifezze compiute dal centrodestra e dal centrosinistra e hanno fatto di tutto per apparire la novità ma ben presto una volta arrivati al potere davvero come dire la maschera è caduta vi elencherò tutta una serie di contraddizioni dei rappresentanti dei cinque stelle vi ricordate che i cinque stelle avevano dichiarato che mai e poi mai avrebbero fatto alleanze vi cito le parole di beppe grillo un tweet del 23 gennaio 2017 è un post firmato movimento 5 stelle sul suo blog del 13 ottobre 2017 salvini e meloni dice grillo mangiate tranquilli il movimento 5 stelle non fa alleanze con i complici della distruzione del paese matteo salvini è un traditore politico fa più schifo di renzi e berlusconi messi insieme al governo ora i cinque stelle sono con matteo salvini alleanze con la lega fantascienza allo stato puro i nostri programmi sono inconciliabili e quanto dichiara in un'intervista roberto fico presidente della ora presidente della camera il 14 giugno 2017 e dichiarazioni alle agenzie del 24 gennaio 2018 dice alleanze con la lega fantascienza noi non faremo un'alleanza con la lega sono culturalmente e genit geneticamente diversi quindi è impossibile avete visto l'alleanza con la lega sentiamo pinocchio gigino gigetto di maio quello che non conosce la lingua italiana e anziché dire soddisfacevano dice soddisfavano vice premier ministro del lavoro io sono di napoli dice dice di maio del sud e salvini era uno di quelli che diceva vesuvio lavali con il fuoco l'alleanza è impossibile eppure sono alleati salvini si è piegato soltanto per le poltrone o il sospetto di un serio rapporto economico tra berlusconi e la lega dichiarazioni di luigi di maio al circo massimo il 12 settembre 2017 e tweet del 2 maggio 2018 andiamo avanti quest'altro scienziato di alessandro di battista che ora sta in america che pubblica i libri i propri libri a spese di berlusconi che definisce berlusconi il male assoluto però prende soldi da berlusconi per pubblicare i libri se il movimento 5 stelle si dichiara alessandro di battista il 17 novembre 2017 il 13 aprile 2018 se il movimento 5 stelle si dovesse alleare con i responsabili della distruzione dell'italia io lascerei il movimento ma non succederà mai i 5 stelle sono la ora sono loro i distruttori dell'italia si sono alleati con gli ex distruttori dell'italia ma di battista sta ancora lì salvini sembrava dudu anzi forse dudu viene trattato meglio berlusconi parlava e lui muoveva la bocca ora i 5 stelle sono alleati di salvini ma le le falsità di le bugie dei 5 stelle non hanno non hanno fine sembrano infinite vi ricordate il principio uno vale uno vi ricordate le primarie la scelta che doveva dei candidati alle politiche non solo attraverso appunto il web avete visto cosa è successo alla camera dove sono stati nei collegi uninominali dove sono stati catapultati soggetti che nulla centravano con il movimento non faremo mai alleanze e lo avete visto ve l'ho detto anzi il movimento 5 stelle sembra sembra quasi che si sia prostituito politicamente politicamente perché a un certo punto pur di governare ha cercato prima l'alleanza con la lega non riusciva poi si è spostato col pd non è riuscito e poi alla fine pur di occupare quelle poltrone si è sposata si è sposato il movimento 5 stelle con salvini e che dire vi ricordate quando di maio attacca a zero il quirinale attacca zero mattarella ricordate quando di maio appunto chiede l'impeachment nei confronti del capo dello stato capo dello stato appunto che secondo la lega il movimento 5 stelle era reo di aver respinto appunto una la nomina di uno dei ministri indicati motivo per il quale si scatena l'inferno e quindi salvini ma soprattutto di maio chiedono se alvini no ma di maio ufficialmente praticamente chiedeva l'impeachment a distanza di tre giorni quando appunto la la bufera è passata e quindi la lega e il movimento 5 stelle accettano un nome diverso si va tranquillamente al quirinale e quella manifestazione che doveva essere fatta a roma per chiedere la messa in stato d'accusa del presidente della repubblica diventa invece la festa del neonato governo questo è di maio e l'uscita dall'euro ce la siamo dimenticati l'italia doveva uscire dall'euro venire si urlava ora nulla di tutto questo ma potremmo andare avanti potremmo andare avanti anche i rapporti per esempio con berlusconi io ho conservato tutto sono gli articoli di giornale in cui ci sono le affermazioni il veto su berlusconi dice gigino gigetto di maio il 18 aprile 2018 dichiara salvini mi ha accusato di porre dei veti non vedo perché io non possa porre un veto su berlusconi e lui sì sul pd il 18 di aprile il 9 di maggio cambia completamente idea il movimento 5 stelle non pone alcun veto su berlusconi in una graduatoria delle responsabilità di questo blocco berlusconi e in fondo si riqualifica appunto o quando si era impuntato per fare il premier di maio oltre il 32 per cento ha votato il movimento 5 stelle il sottoscritto come premier ignorante nessuno ti ha votato come premier non esiste l'elezione diretta del capo del governo ignorante non mi impunto per un motivo personale è la volontà popolare poi il 27 marzo il 6 maggio cambia pur di arrivare al potere dice male che vada capiva che stava per essere fatto fuori dal movimento 5 stelle proprio all'interno e dice male che vada faccio il vice premier faccio il ministro del 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 lavoro faccio il ministro dello sviluppo economico prendo quello che posso prendere l'impuntatura su di maio premier dice appunto di maio non c'è mai stata salvini dico scegliamo insieme un premier questo per dirvi così a livello nazionale le le favole le ipocrisie dei 5 stelle 5 stelle che vanno sputtanati senza se e senza ma ma andando allo specifico potremmo parlare di tante cose vogliamo parlare poi parleremo alla fine dell'ilva vogliamo parlare della tap e quindi del gasdotto che partendo appunto dalla turchia o dalla zerbaijan approderà a melendugno se in un primo tempo c'era un veto assoluto verso questa ipotesi verso la realizzazione del gasdotto piano piano i toni si ammorbidiscono perché se grillo il 26 maggio 2015 diceva non possiamo pensare di dipendere da un gasdotto che arriva dalla turchia o dalla zerbaijan vediamo appunto che la situazione cambia completamente e ora con riferimento al gasdotto si dice ne discuteremo nel comitato di conciliazione dove comunque non arretreremo già si come dire si modifica la posizione di netto rifiuto così come i rifiuti la guerra dei 5 stelle pugliesi all'arrivo dei rifiuti provenienti da altre regioni da appunto stoccare in Puglia bene perché la Puglia è diventata perché Taranto la Puglia e Taranto in particolare sono diventate l'immondezzaio d'Italia se in un primo tempo c'era il veto netto ora con riferimento ai rifiuti provenienti dal Lazio pur rimanendo fortemente critici dicono comprendiamo le ragioni altro ammorbidimento come anche la guerra per quanto riguarda il discorso della Xilella se in un primo tempo c'era il veto assoluto alle eradicazioni quindi agli abbattimenti le eradicazioni porteranno desertificazione apocalittica ecco che i toni cambiano e infatti tra le possibili modalità i possibili strumenti per vincere la Xilella tra i dieci punti esposti nel catalogo leggiamo interventi chirurgici di eradicazione delle piante infette se prima l'eradicazione era una bestemmia ora la eradicazione si accetta e dulcis in fondo la questione ilva lo scandalo degli scandali qui i 5 stelle hanno perso la faccia e Taranto politicamente parlando sarà la loro pietra tombale si è partiti dalla chiusura assoluta dell'ilva poi è venuto di maio a Taranto in campagna elettorale e sull'ilva già ha fatto capire che da buon democristiano qual è non era così netto i toni si ammorbidiscono e assistiamo nei mesi chiusura delle fonti inquinanti quindi non più dell'ilva ma delle fonti inquinanti in generale poi si prende altro tempo chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione fin quando ora di maio sta valutando il da farsi è proprio come faceva renzi e dice sì ma noi abbiamo delle esigenze dobbiamo conciliare il lavoro con la tutela della salute insomma siamo tornati diciamocelo ai decreti salva ilva questo è il movimento 5 stelle questo è di maio così chiacchiere fumo tante promesse per far abboccare gli elettori e devo dire che ci hanno saputo fare perché quella dei 5 stelle è una setta ma una setta che si sta sgretolando perché le bugie hanno le gambe corte e come vedete le puttanate a 5 stelle stanno emergendo ai loro senza bavaglio informazione libera sempre sempre